ok allora incominciamo allora partiamo con questo qua questo è Dio si immerge, vedi Dio qua un po' Dio qua, vedi dove si immerge Dio e si mangia e assaggi Dio questo era Madonna se stessi attento a quello che fai ti entra per fin tremare Dio Dio è una cosa? un po' Dio quasi nero è un po' Dio bello fresco questo si chiama Pino Pino mamma che piccante ma lo sbaglio a essere sete era Pino ho già mangiato Pino va beh mi piace l'ultimo questo si chiama Roberto Roberto e mangiamo anche Roberto Roberto c'è un tipo verto ti vedi? c'è un po' di ananas si buonissimi che vota ci dai? tu c'è l'olio guarda che hanno 5 sushi eh? hanno 5 sushi pochi ripartiamo quindi a a a a a a Grazie.